Un plauso e grande supporto da parte della Capitaneria di Porto di Venezia e di Chioggia a questa iniziativa della locale autorità di sistema portuale. Portare all'attenzione le tematiche di porti così rilevanti come quelli di Venezia e Chioggia immersi nella realtà lagunare e a contatto con le rispettive città è assolutamente una necessità. Una città che nasce dal desiderio di far conoscere quella che è la vita di un porto, quella che è la vita di un porto di tutti i giorni, un meccanismo veramente complesso e che richiede grande tecnicismo, grande attenzione e soprattutto una grande capacità di guardare a quello che succede intorno a noi per andare a comprendere quelle che sono le migliori tecnologie, le migliori soluzioni che possono rendere il porto di Venezia e il porto di Chioggia nel futuro sempre più sostenibili. Quindi la Capitaneria di Porto darà pieno supporto a questa iniziativa, a questo ricco programma che è stato posto in essere al quale dico nuovamente che claudiamo e saremo presenti. È cominciato il countdown e vi aspettiamo!